Il Museo di Storia Naturale della Maremma riparte dal decennale dell'attività appena celebrato e per la struttura museale di Fondazione Grosseto Cultura il 2020 sarà un altro anno di grandi eventi. Cerchiamo di offrire un programma molto ricco che va da febbraio fino a dicembre. Sono eventi anche molto diversi tra loro che si rivolgono a un pubblico diversificato. Tra questi abbiamo anche l'onore quest'anno di ricevere un premio del Touring Club Italia che ha selezionato per ogni provincia della regione toscana un museo nel caso della provincia di Grosseto è stato il nostro museo quello che è stato selezionato e quindi il 18 di aprile riceveremo questo premio e sarà un'occasione anche per celebrare le attività di Citizen Science che noi facciamo. Quindi nell'occasione ci sarà la consegna del premio e una giornata dedicata a attività diverse con la visita del museo, un laboratorio e poi il pomeriggio Natura sulle Mura. Quindi le persone potranno iscriversi, andare a fare delle foto a specie animali e vegetali e segnalarcele e chi avrà identificato più specie avrà un piccolo premio. Non solo eventi legati all'attività specifica del museo ma come altre realtà della Fondazione Grosseto Cultura c'è una sala per le conferenze, ci sono degli spazi per delle mostre. Quest'anno abbiamo avuto una bellissima mostra su Leonardo da Vinci e la cucina ma è stata anche sede di un festival musicale. Il museo si amplierà, almeno questa è la sua intenzione, sappiamo che c'è un'ala che è adiacente alla struttura attuale che forse sarà posta in vendita e questo potrebbe essere l'ulteriore ampliamento del museo una spesa prevista di circa 3 milioni di euro, si parla di oltre 360 metri quadrati di superficie. Questo è un piccolo sogno che coltiviamo, il museo è stato inaugurato circa 10 anni fa però per molti aspetti è già piccolo quindi se riuscissimo ad acquisire quest'ala che è a fianco al nostro museo avremo l'indipendenza su tutti i lati, un altro giardino. Ci sono delle trattative con il privato che è il proprietario, ovviamente si tratta di individuare i fondi non tanto per l'acquisto quanto per ristrutturarlo e allestirlo. Sono fondi importanti, ci auguriamo di trovare anche delle partnership private di persone interessate ad abbinare il proprio nome a quello del museo.